Un territorio fantastico, quasi incantato, le ricchezze della fauna selvatica e di una flora tipica e varia, nonché le mille attività dell'ufficio riserva del Monte Salviano del Comune di Avezzano. Questo è il contenuto di un nuovo video sulla riserva regionale Monte Salviano, la riserva dello scoiattolo nero, nel quale vengono mostrate tutte le caratteristiche e le bellezze che si possono trovare in questo unico angolo di Avezzano e della Marsica. Dal lupo all'orso, dal capriolo allo scoiattolo, passando per il gatto selvatico ed il cervo, attorniati da una natura varia e dai mille colori e profumi, la riserva regionale del Monte Salviano si presenta così al meglio. La riserva naturale regionale guidata a Monte Salviano, come noto, è stata istituita con una legge regionale del dicembre del 1999 e si estende per circa 722 ettari, tutti nel territorio del Comune della città di Avezzano. Il simbolo è lo scoiattolo meridionale, frequente nelle estese pinete presenti sul Monte Salviano. La riserva è un'area protetta ad alto valore naturalistico, connessa ai parchi regionali d'Abruzzo, Lazio e Molise e considerata un corridoio di collegamento ecologico e faunistico al Parco Nazionale d'Abruzzo e al Parco Naturale regionale Sirente-Velino, attraverso il bacino prosciugato dell'antico lago Fucino. Nel video vengono messe in evidenza le vitali attività di monitoraggio della fauna selvatica effettuate in modo continuo dall'ufficio della riserva. Attività condotte con metodo scientifico, con l'aiuto di foto e videotrappole che permettono di registrare passaggi, flussi, aumento o diminuzione della popolazione selvatica, ma anche le abitudini e eventuali modifiche nella struttura dei gruppi presenti nel territorio. Un'attività fondamentale per la corretta gestione della riserva e soprattutto della popolazione di animali selvatici che vivivano vera e propria ricchezza di questo territorio. Il video è stato realizzato dall'ufficio per la riserva del Salviano del comune di Avezzano.